Domani, Ferragosto in Abruzzo, diversi musei, parchi archeologici e luoghi della cultura, tra cui Castelli e Abbaziera, stanno aperti. Il Ministero della Cultura comunica che le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Per quanto concerne la nostra regione, il Museo archeologico nazionale La Civitella di Chieti, è aperto da oggi al 18 agosto dalle 9 alle 19.30, stessi orari anche per le aperture a Villa Frigeri il 15, 16, 17 e 18 agosto. Il Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila sarà aperto nei giorni di domani, Ferragosto, 16, 17 e 18, dalle 8.30 alle 19.30. Il bastione est del castello, che ospita lo scheletro fossile del Mammut, sarà aperto al pubblico dalle ore 9 alle 19.00. C'è l'anno apertura dalle 8.30 alle 19.30, da oggi al 18 agosto, per il Castello Piccolomini, Collezione Torlogne e Museo d'Arte Sacra della Marsica, aperto nei giorni 15, 16, 17 e 18 agosto dalle 8.30 alle 19.30. L'Abbazia di Santo Spirito al Morrone di Sulmona, aperta dal 15 al 17 agosto dalle 9 alle 19.30 e il 18 agosto dalle 9 alle 13.30. L'Abbazia di San Clemente a Casauria di Castiglione a Casauria, dal 15 al 17 agosto dalle 9 alle 19.30 e il 18 dalle 9 alle 13.30. Il Museo Casanatale di Gabriele D'Annunzio a Pescara sarà aperto dal 15 al 17 agosto dalle 9 alle 19.30 e il 18 dalle 9 alle 13.30. Il Museo Archeologico Nazionale di Capri, aperto oggi dalle 8 alle 18, il 15 agosto dalle 8.30 alle 19.30 e dal 16 al 18 agosto dalle 8 alle 18.00. Per un Ferragostio, una settimana di Ferragostio, alla scoperta o alla riscoperta della cultura nella nostra regione. Grazie a tutti.